Il voto è un diritto per tutti ed ecco che la ASL ha predisposto una serie di indicazioni per ricoverati in ospedale o per i pazienti a domicilio. Negli ospedali con almeno 200 posti letto verranno istituite apposite sezioni ospedaliere per quanti sono ricoverati e possono accedere autonomamente alla cabina per votare. Un seggio speciale è previsto per i pazienti allettati. Anche negli ospedali con meno di 200 posti letto sarà consentito l'esercizio al voto ai cittadini ricoverati attraverso distaccamenti di seggi delle sezioni ordinarie comunali. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei reparti Covid, il voto verrà raccolto da una sezione speciale Covid composta da personale sanitario provvisto dei relativi dispositivi di sicurezza. Tutti i pazienti per votare dovranno essere in possesso della tessera elettorale e di un documento in corso di validità. Gli elettori affetti da gravissime infermità possono chiedere di esercitare il diritto al voto al domicilio. Affinché ciò avvenga, l'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune di residenza una dichiarazione attestante la propria volontà di votare. Nel caso specifico delle prossime elezioni, tale richiesta potrà essere inviata fino al 5 settembre. La richiesta deve essere corredata di copia della tessera elettorale e idonea certificazione rilasciata da un medico designato dalla medicina legale dell'azienda sanitaria di riferimento. I cittadini residenti nel territorio dell'ASL Toscana Sud-Est sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19 possono chiedere di votare presso il proprio domicilio, rivolgendosi al sindaco del comune di residenza, allegando il certificato di isolamento domiciliare rilasciato dalla propria ASL. Per quelli sprovvisti della certificazione è possibile farne richiesta al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Sud-Est.